Ha 40 nuovi sprinter a Maggiore Amico Blu, che cosa significa questo per Mercedes-Benz Italia Van e che prospettive dà per il mercato dei veicoli commerciali? Intanto significa un primo punto di incontro con Maggiore e con il loro brand Amico Blu, non la limiterei soltanto ad una vendita, è un'azione più completa, nel senso che ci sono delle azioni, delle attività e dei risvolti più marketing, abbiamo fatto delle analisi insieme a Maggiore e abbiamo identificato delle esigenze per dei clienti premium, per dei clienti più sofisticati che potrebbero in qualche modo richiedere questa tipologia di prodotto e quindi l'abbiamo creato ad hoc per loro, configurandolo ad hoc per loro. Se non sbaglio sono sprinter equipaggiati con il cambio 7G-Tronic, quindi un'eccellenza tecnologica ma anche una semplificazione della guida, quindi probabilmente oltre alla clientela specializzata questi veicoli potrebbero interessare anche a dei noleggiatori occasionali? Esattamente, nel senso che dalle ricerche era venuto fuori in modo proprio eclatante questa esigenza di facilità di guida, non sempre sono dei professionisti che utilizzano il veicolo commerciale e quindi l'abbiamo equipaggiato con il cambio automatico 7G-Tronic, che è esattamente quello che si ritrova all'interno delle vetture. Quindi la facilità di guida è confermata e assoluta e questo diciamo che ci dà un gran pregio per noi, che è una grande opportunità per far conoscere il nostro prodotto ad un target che forse non è proprio da strettissimo addetto ai lavori. 40 sprint Mercedes-Benz a maggiore per il brand Amico Blu, che cosa andranno a fare questi 40 veicoli? Chi è Amico Blu? Cominciamo a dire che per noi è già una novità avere una livrea non blu, perché di fatto è la prima volta nella storia di Amico Blu che è un brand ormai affermato sul mercato del noleggio a breve termine dei veicoli commerciali senza patente. È una grande novità perché il nostro marchio di identificazione e di riconoscimento è proprio rappresentato dal blu. Abbiamo mantenuto la livrea di colore blu, ma l'abbiamo fatto perché crediamo che l'identificazione del nostro colore vada mantenuta, ma l'elemento di novità veramente forte è questa partnership con Mercedes, che ci vede posizionati con un prodotto innovativo, il primo esempio di noleggio furgoni con cambi automatico, una tecnologia estremamente ecologica, quindi credo che siano Euro 6 questi modelli, sono quanto di più all'avanguardia ci possa essere. Riteniamo che sia uno strumento di comunicazione verso il mercato per riaffermare la nostra leadership di marchio di riferimento sul noleggio a breve termine. La scelta di Mercedes è una scelta quasi naturale perché deriva dal posizionamento che il brand Mercedes ha sul mercato, quindi una leadership nel noleggio e una leadership di mercato sui veicoli commerciali non potevano che sposarsi in questo modo.